Siamo con Diego Cavallotti, uno dei coordinatori scientifici di Film Forum 2017, al quale chiedo subito di spiegarci come verrà articolata questa edizione per quest'anno. Il Film Forum si articola su sostanzialmente tre livelli. Un primo livello legato al convegno internazionale di studi sul cinema, che ormai è giunto alla 24esima edizione. Il secondo livello che fa riferimento alla scuola per dottorandi, la Magi Spring School, arrivata ormai alla 15esima edizione. E poi una parte più festivaliera serale dedicata a una breve rassegna di film che comprende un vasto assortimento di proiezioni. Si va appunto da film legati all'Ey Rebellion, quindi cinema americano degli anni 70, al cinema muto d'inizio del Novecento, al cinema sperimentale italiano degli anni 60-70, e poi infine anche a elementi marginali dell'industria cinematografica, come un piccolo focus sull'industria pornografica. Per quanto riguarda il convegno di studi, segue un filone che ormai già in questi anni avete iniziato ad approfondire, che è il cinema senza nomi. Perché avete scelto questa tematica? Qual è il focus che voi svilupperete? La scelta è innanzitutto legata al percorso di ricerca portato avanti dal professor Quaresima, che oltre a essere stato uno dei fondatori del corso di laurea in Dams qui all'Università di Udine, è stato anche uno dei fondatori del Dams di Bologna. E nasce innanzitutto da una presa di consapevolezza, ovvero sotto la coltre dei nomi, dei grandi nomi, dei grandi autori, dei grandi produttori, c'è un brulichio di attività svolte da entità anonime, siano esse istituzioni, fino a, diciamo, i collaboratori più marginali dell'industria cinematografica. Una necessità di rivalutare queste figure, queste istituzioni, che sono anche, talvolta anche, dei centri di potere anonimi, che agiscono in maniera anonima, è diventata una delle priorità del nuovo corso degli studi sul cinema, che sta, o almeno nei nostri aspici, affiancando gli elementi più tradizionali legati alla storia del cinema, allo studio degli autori. Per quanto riguarda la rassegna, invece, con gli appuntamenti serali aperti al pubblico, ci anticipavi già prima alcuni appuntamenti importanti e c'è un po' in particolare una serata, un'anteprima nazionale di particolare interesse dedicata al cinema americano, afroamericano. Sì, si tratta di Killer of Ship, legato appunto alla cosiddetta LA Rebellion. Si tratta di un film in cui il regista appunto appartenente alla comunità afroamericana riprende degli elementi e degli stilemi legati al neuralismo italiano, ma non li applica all'ambito della comunità bianca americana, ma li utilizza per descrivere la vita all'interno della propria comunità afroamericana.